Beppe Sala dunque è il candidato del centro-sinistra per le prossime elezioni comunali a Milano a seguito delle primarie di sabato e domenica scorsi. Vediamo come ne hanno parlato i giornali di oggi. Corriere della Sera, Sala supera il test delle primarie, Milano e Sala il candidato del centro-sinistra, Balzani seconda staccata di 8 punti, Mister Expo incassa le primarie al 42%, la vice sindaco rammaricata, avevo aperto la porta a Maiorino. Così dunque il Corriere della Sera, andiamo su Repubblica, Sala vince le primarie e si candida sindaco, Pisapia lo sosterrò. Milano a Mister Expo il 42% dei voti, Balzani seconda col 34%, ai Gazebo oltre 60.000, leggero calo sul 2010, un 10% in meno per essere concreti. Repubblica come vedete punta molto su Pisapia e sul suo ruolo in questa vicenda. Andiamo sul giornale che invece fa polemica. Primarie in salsa cinese, a Sala va bene tutto per batterla Balzani, il commissario Expo supera il vice sindaco di Pisapia di 8 punti e il candidato della sinistra, scontro Grillo Renzi, sul voto straniero. Torniamo sul Corriere della Sera per dare conto di un'intervista che Elisabetta Soglio ha realizzato con il vincitore Beppe Sala. Mi aspetto lealtà ma qualcuno potrebbe cambiare strada. Il candidato temo una manovra antri-premier nella sfida per Milano. Questa è dunque la sintesi dell'intervista della Soglio. Andiamo sulla Repubblica dove Oriana Liso dà conto di un colloquio con Beppe Sala. Adesso non ci richiudiamo, dobbiamo allargare il consenso e avrò bisogno di Giuliano. Il vincitore esalta la partecipazione ai Gazebo ma non rinuncia a rispondere ai più critici. Mi hanno dipinto come un truffatore ma io sono stato leale e ci ho messo la faccia. Si coglie da questo come era molto preoccupato di questo passaggio delle primarie Beppe Sala. Anche sul giorno si parla del candidato. Sala vince le primarie ma non domina e si appella ai rivali. Seconda la Balzano, rammaricata, pago la mancanta alleanza con Maiorino. Sono felice, ha vinto Milano. Poi è il modo in cui Beppe Sala parla dalle colonne del giorno. Ancora dal giorno si dà conto della sconfitta. Sono rammaricata, io e Pierre dovevamo allearci. È una delusa Balzani. La numero due del sindaco è stata staccata di otto punti percentuali. E in qualche modo ora ci si rammarica della divisione della sinistra. Corriere della Sera Milano fa parlare anche l'attuale opposizione. La Lega, Pisapia e il grande sconfitto. E oggi Summit per trovare l'antisala. Dalle polemiche sul voto cinese all'accusa a Mister Expo di aver cambiato casacca. Questo è il clima che si respira nel fronte avverso. Sempre sul Corriere della Sera Milano, Boeri autorevole perdente. Ambrosoli piccola rivincita. Si dà conto dei sostenitori, dei partecipanti alle primarie, pescando dal mazzo i due più rappresentativi, ovvero Boeri e Ambrosoli, che in qualche maniera hanno avuto sorti opposte per il proprio endorsement. La Repubblica poi si concentra sulla vicenda dei cinesi. Quanto pesa la Chinatown milanese? Oltre 6.000 aziende in città raddoppiate in sei anni e ora alzano la voce. Molte polemiche sulla partecipazione dei cinesi alle primarie. Lo sottolinea anche il giornale Milano. Ironie web sulla febbre cinese per il manager Sala. Ai seggi anche Cioffi, ex Forza Italia, direttore Expo della provincia. Si va a cercare dunque un modo per depotenziare il significato di queste primarie da parte del giornale. Sul Fatto Quotidiano c'è il commento di Gianni Barbacetto. Milano, Mister Expo vince, le primarie perdono voti. 61.000 ai seggi, 67.000 nel 2010 e vinse Pisapia. Sala batte la sinistra a pezzi. La tesi di Barbacetto è che si è fatta male la sinistra e che Sala non ha stravinto. Sull'unità invece abbiamo il commento affidato ad Adriana Comaschi. Le primarie incoronano Sala, ha vinto Milano, votano in 58.000, dato un vecchio perché poi erano 61.000, vince col 43% Mister Expo. Da domani si ricomincia le congratulazioni di Renzi, complimenti di Balzani. Ragioniamo come arrivare insieme vittoriosi alla sfida di giugno. La stampa dà un conto della Galassia che sta attorno a Sala. Da Tronchetti Provera a Bassetti, passando per Cielo, ecco la Milano di Beppe. Esplicito appoggio della Compagnia delle Opere, il candidato del centro-sinistra, porta una ventata di riformismo come quella del Governo nazionale. La stampa ricostruisce un po' la geografia che starebbe intorno a Sala. Sulla Repubblica c'è Michele Serra che parla della lezione di Milano, dà conto del ruolo un po' appannato di Pisapia e del cambio di stagione di una sinistra che deve fare i conti col fatto che la stagione degli Arancioni sembrerebbe al tramonto. Non è tenero Giancarlo Mazzucca, direttore del giorno. Palazzo Marino non è l'Expo, dà conto di una vittoria a metà, per così dire, del manager ex Expo e parla di una sinistra comunque in difficoltà. Altra lettura, sempre dall'Unità, Vla di Miro Frulletti. Il risultato, le file ai volontari, un patrimonio da cui ripartire. La lezione di Milano, titola l'Unità, esalta le primarie come occasione di scelta da parte dei cittadini e come ottima manifestazione di democrazia. Quindi si concentra su questo l'Unità. E per chiudere andiamo sul Corriere della Sera con il commento di Venanzio Postiglione. I segnali che arrivano dalla città della nazione. Le primarie sono una scienza occulta ma ogni voto ha la sua storia. Hanno pesato il successo di Expo, che Milano abbia fatto un salto acquisito, mentre il secondo punto è legato alle incertezze di Pisapia. Venanzio Postiglione dice che queste sarebbero le prove generali per il partito della nazione e Pisapia di fatto vede archiviare la sua stagione. È un po' questo il modo in cui i giornali di oggi hanno parlato di primarie. C'è da credere che tra poco nessuno si ricorderà più di questi commenti e comincerà la vera partita, la vera sfida anche per Sala e tutto il centro-sinistra. Quella per un avvicinamento alle primarie, scusate, alle elezioni di giugno e per una sfida, quella di riuscire a raccattare, a raccogliere e ad entusiasmare un pochettino tutte le forze della città, cosa che queste primarie non sono riuscite a fare fino in fondo.